Ciao, bentornate sul mio canale e oggi sono arrivati altri pacchetti da Aliexpress e quindi li apriamo insieme o meglio, già li ho aperti perché non ho resistito però vi faccio vedere che cosa mi è arrivato allora, partiamo col primo pacchetto che è questo questo qui è un brush egg ed è un aggeggino per pulire i pennelli quindi si mette del sapone qui e poi col pennello si strofina e dovrebbe pulire il pennello vedremo come sarà i prezzi e i link come al solito negli infobox poi sempre da ottobre tutti questi sono tutti da ottobre tranne uno poi sempre da ottobre che aspetto aspetto questi disegni per le unghie di Natale quindi il prossimo Natale ne avremo veramente tantissime allora, siccome sono messi così faccio così allora questi sono zoom un pochettino questi sono i disegnini ci sono questi con i regali questi con i pupazzi di neve e poi ci sono questi con le campane e gli angioletti poi un altro pacco questo qui non è di ottobre ma è di dicembre no, di gennaio sì, di gennaio e sono arrivati in un mese allora mettiamo anche qui questi sono degli orecchini ma veramente carini costati una sciocchezza zoom sono bellissimi poi come luccicano poi non so il materiale sinceramente non mi ricordo poi in questo pacchetto abbiamo preso un'altra magliettina per il cane la S come c'è scritto qui ed è di pile molto bella questa riscalderà abbastanza vedete che carina molto molto fatta bene tra l'altro allora questa è la S appunto l'etichetta allora si può lavare a 30 gradi e anche stirare volendo ma tanto non verrà mai stirata perché non c'è bisogno ma lavata sì ovviamente questa è veramente carina ed è costata mi pare pochissimo anche questa su Aliexpress non costano tanto le cose per i cani ecco ultimo pacchetto mi è arrivato questo gel per unghie di questa marca che mi sono trovata devo dire molto molto bene la color gel piuttosto che un'altra allora questo è il numero 30 ed è un blu elettrico ora io l'ho aperto molto molto in modo veramente pessimo ecco perché non ero a casa e questo è il colore molto bello ancora lo devo utilizzare quindi non so come come sarà però non è la prima volta che acquisto dei gel di questa marca e da quel vesto venditore perché veramente mi sono trovata molto molto bene niente questi erano i 5 pacchetti che mi sono arrivati e la prossima volta quando ne metterò di lato altri 5 farò un altro unboxing vi mando un bacio al prossimo video ciao ciao